Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Sono 904 gli ospiti delle case di riposo di Trieste, sottoposti fino al 21 aprile a tampone per verificare la positività al coronavirus. Secondo l'ultima rilevazione, 264, 29,2%, sono risultati positivi. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Su 94 residenze censite con 3.611 ospiti, riporta una nota, l'attività si è concentrata sulle 65 strutture prioritarie, 3.090 ospiti in base al gradiente di rischio riscontrato a causa della promiscuità con altri residenti e tipologia di pazienti. In queste 65 strutture sono stati effettuati tamponi a 904 persone, 30% degli ospiti, secondo criteri clinici di priorità. Nel tempo sono stati eseguiti più tamponi alla stessa persona per un totale di 1.269 tamponi, di cui 868, il 68,4%, sono risultati negativi, mentre 378, il 29,8%, sono stati riscontrati positivi. 301 persone su 904, il 33%, hanno avuto un tampone positivo nel loro decorso clinico. Essendo i tamponi ripetuti nel tempo, l'ultima rilevazione sulle stesse 904 persone segnala 264 riscontri positivi, il 29,2%, mentre il numero di negativi sale a 633, il 70%, con un 0,8% di risultati incerti da ripetere. Per ora vi sono 49 residenze esenti da contagio, alcune con percentuali bassissime di ospiti con tampone positivo, altre invece maggiormente impegnate. Un uomo di 78 anni ricoverato nella terapia intensiva all'ospedale di Schiavonia con una grave polmonite è stato operato per l'impianto di un pacemaker definitivo che ha corretto un blocco atrioventricolare completo che lo affliggeva. L'operazione è la prima del genere in Veneto. L'equipa era composta dalla dottoressa Barbara Ianiotiuq dell'Università Operativa Complessa di Cardiologia, diretta da Giampaolo Pasquetto, insieme con le infermiere dell'emodinamica Alessandra Celestino e Viviana Levolato e l'anestesista Elena De Marzi. In totale la sanificazione della sala, la preparazione del paziente e l'intervento sono durati tre ore. Il quadro clinico del 78enne ora è in progressivo miglioramento. In poco più di un mese, dal 16 marzo al 19 aprile, attraverso un numero unico per l'emergenza, il numero verde 800-500-300, è stato fornito supporto psicologico professionale a 566 persone, un'azione importante che è stata messa rapidamente in campo per l'emergenza Covid-19 in un momento dedicato a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del virus grazie alla collaborazione tra la Protezione Civile Regionale e l'Associazione Psicologi per i Popoli a tracciare il bilancio dell'attività degli psicologi a supporto degli operatori della NUE dell'800-500-300 e il vice governatore con delega alla Salute e alla Protezione Civile Riccardo Riccardi il quale ha evidenziato che il servizio era già partito in via sperimentale ma dal 6 aprile viene garantita la presenza di uno psicologo sette giorni su sette, dalle 12 alle 19. Mediamente le persone che accedono al supporto psicologico sono 26 al giorno ma è stata toccata anche una punta di 70 chiamate gestite. La tipologia della necessità espressa dagli utenti è estremamente ampia. Molti hanno semplicemente bisogno di essere ascoltati e rassicurati perché preoccupati per i familiari distanti o perché impreda un senso di frustrazione per la mancanza di contatti sociali ma ci sono anche coloro che chiedono aiuto per gestire i conflitti con gli altri membri della propria famiglia, con i vicini e anche con le forze dell'ordine. Non mancano le persone che chiedono consigli a supporto per la gestione dei figli o di persone con disabilità. Ed ora per qualche istante diamo la linea alla redazione di Treviso. Treviso Visita la moglie ma è positivo al covid. Caffoncello, incubo, nuovo focolaio. Si presenta nel reparto di prima medicina con febbre e tosse e diffonde l'infezione. Sono emerse altre positività tra gli ospiti. Case di riposo. L'URSS2 dice accuse ingiuste contro di noi. Porteremo le carte in procura. Il direttore generale Francesco Benazzi nella conferenza stampa di mercoledì 22 aprile dice che è stata fatta una verifica interna all'azienda sanitaria. È sulla casa Pensi e dice che si andrà per vie legali. Maxi sequestro di mascherine valevano 50 centesimi ma erano vendute a 5 euro. È stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Portogluaro, rappresentante di un'azienda trevigiana. La segnalazione è partita da una donna che lamentava il prezzo troppo caro. Sono state tolte dal mercato anche 22.000 mascherine non certificate. Evasione dagli arresti domiciliari. Martino Pivato torna in carcere. Il ventenne di Ponzano Veneto, più volte arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, era stato denunciato per due volte in pochi giorni. Era stato trovato prima a Mogliano, ma in precedenza era stato trovato anche a San Biagio di Callalta. Montebelluna a breve riapriranno in città il mercato di Busta e quello a chilometro zero. Il Comune però ritiene purtroppo non ancora percorribile allo stato attuale dell'emergenza la riapertura del mercato maggiore del mercoledì. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Questa mattina sono in corso i lavori per montare l'ospedale da campo donato dallo stato del Quatar alla regione Veneto. Impegnati i vigili del fuoco insieme al personale della protezione civile, esercito aeronautica e associazioni alpini. La struttura è in fase di allestimento nell'attiva vicinanza della struttura ospedaliera di Schiavonia. I vigili del fuoco sono impegnati con due autogru, una del comando di Padua e l'altra di Rovigo, e 10 operatori nell'allestimento del grande complesso di oltre 5.000 m2 che potrà ospitare oltre 500 posti letti. I lavori dei pompieri proseguiranno anche nei prossimi giorni. L'ospedale potrebbe essere utilizzato in caso di una recrudescenza dei contagi Covid-19. Poi, quando sarà finita questa emergenza, questo ospedale verrà praticamente messo a disposizione in caso di altre eventuali calamità. Ed è tutto Massimo Bonella per Radiodiffusione Europea. Da ieri sera è ripresa l'attività del reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale di Cattinara a Triestero. Ha annunciato il vicegovernatore con delega da salute Riccardo Riccaldi, il quale ha spiegato che l'attività sarà proporzionata al personale sanitario disponibile. A causa dei lavori in corso verranno allestiti da 6 a 8 posti letto con un solo paziente per le stanze piccole e due per quelle di dimensioni maggiori, mantenendo sempre l'adeguato distanziamento di sicurezza. L'operatività del reparto sarà garantita dalla presenza di due medici, tre infermieri, un operatore socio-sanitario durante i turni del mattino e del pomeriggio e di un medico, tre infermieri e una OS durante la notte. Dal punto di vista operativo, il reparto sarà considerato area grigia, quindi il personale adotterà i dispositivi di protezione e tutte le precauzioni dei reparti Covid-19, indipendentemente dal fatto che i pazienti siano in attesa dell'esito del tampone, fatto in pronto soccorso. Bayont, Pordenone, lieto fine per un bambino di tre anni di Bayont che era uscito di casa nella tarda serata di ieri senza che se ne accorgessero i genitori di cui si sono perse le tracce. La mamma stava preparando la cena e non lo ha più visto. È stato ritrovato verso le 22.30 da due cittadini volontari che lo cercavano da tre ore. Era non lontano da casa. Il piccolo un po' infreddolito, vivo e sta bene. Immediata è stata la mobilitazione dei soccorritori. L'hanno cercato i carabinieri della stazione di Maniago, i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco dei locali di staccamento e del comando provinciale di Pordenone con l'aiuto di un cane molecolare. Con le mascherine e le torce, decine di abitanti hanno iniziato a perlustrare già dalla sera ogni angolo del territorio, spingendosi fino al greto dell'Ecellina. E continua il monitoraggio di Veneto lavoro sugli effetti causati dall'emergenza Covid-19. Ebbene, sull'occupazione dipendente in Veneto a quasi due mesi dal 23 febbraio con l'introduzione delle prime misure restrittive da parte del Governo la perdita dei posti di lavoro dipendenti in regione è salita a circa 50.000 tra mancate assunzioni e diminuzione effettiva delle posizioni lavorative pari a circa il 3% dell'occupazione dipendente complessiva una media di 6.000 posti di lavoro persi ogni settimana. è il calo, completamente imputabile al crollo delle assunzioni che ha coinvolto tutte le tipologie contrattuali. La differenza con il saldo del corrispondente periodo 2019 pari a meno 7.000 per i contratti a tempo indeterminato mentre 4.400 per l'apprendistato, meno 39.500 per i contratti a termine. Noi adulatori restiamo a casa, fai come noi, rimani a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Salve, sono Michele Cucuzza, io amo il Friuli Venezia Giulia e io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Io amo la mia regione, io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Compi anche tu un gesto d'amore, resta a casa. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno con bola in genere moderata sulla costa e sulle zone orientali. In montagna è possibile qualche modesto nuvolamento locale. Domani al mattino cielo sereno, dal pomeriggio poco nuvoloso o velato. Venti di brezze e temperature massime in leggero calo sulla costa. Passiamo al Veneto, cielo sereno con clima asciutto e ottima visibilità. Domani cielo sereno poco nuvoloso nella seconda parte della giornata, assenza di precipitazioni, temperature minime in calo in pianura, in aumento sulle zone montane, massime in ripresa. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione.